Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale del vostro Prazzoni in questo nuovo video Oggi non si spacchetta, però ragazzi, prima che inizi il video mi raccomando Se questo video raggiunge entro stasera 150 mi piace Mi raccomando con questi pollicioni andateci giù pesante Stasera andremo in live ad aprire uno dei box più belli dell'ultimo anno, anno e mezzo Mi raccomando 150 mi piace Bentornati ragazzi sul canale del vostro Prazzoni Oggi siamo qua con un video consiglio Prima che il video inizi mi raccomando un like Il commentino arriverà dopo ovviamente In descrizione trovate il mio profilo Instagram Movimania Sulmona Codice Palaz per avere il 7% di sconto E il gruppo Telega di Demma dove potete vendere le vostre carte Essere aggiornati e rimanere aggiornati ogni secondo sulle novità poco Mi raccomando entrate Oggi ragazzi voglio parlare delle novità che in questo caso riguardano però le edicole Perché? Oggi ragazzi è venerdì Voi vedete il video proprio in questo giorno E diciamo che si sta muovendo qualcosa a livello di Tra virgolette Ristock o fondi di magazzino Per quanto riguarda ambiente edicola barra Agedis Cosa intendo? Diciamo che in questi giorni Sto un attimo girando nella mia zona Per andare alla ricerca nelle edicole Di alcune collezioni particolari Perché? Perché sono stati rimessi in commercio O appunto quei fondi di magazzino Ristock o come li volete chiamare voi Alcuni pacchetti singoli come ad esempio legami inossidabili ed eclissi cosmica Che andrete a pagarli al prezzo di 5 euro ragazzi E non più 4 Che sono per me assolutamente da prendere Ma ragazzi per farvi una sbustata Non per rivenderli perché bene o male il prezzo di eclissi cosmica è quello A meno che non si parla di ETB o di un box E soprattutto c'è anche legami inossidabili Gioco di squadra, tempesta strada Diciamo che i set più interessanti di sole e luna Sono stati rimessi, penso a breve quantità In commercio soprattutto all'interno delle edicole Andate a buttarci un occhio L'aspetto più interessante però Che riguarda le novità dell'edicola È sicuramente il fatto che sono state messe in commercio Come diciamo i pacchetti di eclissi cosmica, sintonia, legami eccetera Anche ragazzi tin e collezioni Collezioni che magari un tempo nessuno di noi si cagava Diciamolo tranquillamente Oggi diventano appetibili Parlo ad esempio di collezioni come quella di Farfetch Che contiene fiamme oscure ma anche se non sbaglio legami inossidabili La collezione di Kangaskhan Ma anche ragazzi la collezione di Marowak Che come ben vedete il vostro palazzone ha pensato di comprarla Questa collezione viene intorno ai 20 euro, 23, 24 euro E contiene un tempesta astrale, un'ombra infuocata e due giochi di squadra Capite bene che oggi trovare all'interno della collezione questi pacchetti Risulta molto molto appetibile rispetto sicuramente ad un anno fa Ma l'altro aspetto molto interessante è che in alcune edicole avete la possibilità di trovare queste tin qui Che io ho preso, vi farò vedere più avanti il perché ho preso questi due prodotti Queste tin di Glaceon GX ma per esempio anche Litheon e anche Silveon Contengono ragazzi quattro pacchetti Di cui due tempesta astrale, un'ombra infuocata e soprattutto evoluzioni Queste tin vengono 24 euro, capite bene che il prezzo di un pacchetto Ovvero evoluzioni vale quanto il costo intero della tin Poi quello che voi ci farete, io non lo so, potete fare liberamente quello che volete Rivenderle, spacchettarle, io le ho prese perché poi le vedete sul canale Quindi ci tenevo a farvi questo video per avvisarvi Non partite in 50.000 a svaliggiare le edicole Nel senso che lasciate anche magari qualcosa a qualcun altro che può essere interessato Vi volevo aggiornarvi appunto in merito a questa situazione Dunque nelle edicole, penso per un breve periodo Visto che è stato un fondo di magazzino leggero, tra virgolette Troverete Eclissi Cosmica, Legami Inossidabili, Gioco di Squadra, Sintonia Mentale Ma soprattutto le diverse e varie collezioni C'è anche chi ha trovato la collezione di... La collezione leggendaria GX, qualcosa del genere di Tundurus Con all'interno il pacchetto di evoluzioni Anche quella a viaggio intorno ai 23-24 euro Quindi mi raccomando, buttateci un occhio Hanno pacchetti molto molto interessanti Evoluzioni, gioco di squadra, ombre infocate Comunque bene o male a collezione Teoricamente un pool potrebbe essere abbastanza assicurato Ma non è detto, lì come sempre va a fortuna Io ragazzi vi ricordo di passare in descrizione in tutti i link Mi raccomando fate i bravi Un like, se arriviamo entro stasera 150 like Stasera ci vediamo in live per sbustare un box Molto 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 bello In descrizione trovate il mio link personale di Instagram Passate se no vi vengo a cercare Movie Mania, codice Palace 7% di sconto su tutto il card game E il gruppo Telegram di Dan Mi raccomando, passateci Un saluto a noi ragazzi Evoluzioni in edicola Forza! Alla prossima Grazie.